Eccoci qui, un saluto a tutti come state ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, a iscrivervi se non avete ancora fatto da questa parte, siamo sempre più numerosi, siamo un po' fermati, siamo a un passo dai 101 Milan, è dalla carica dei 101, e mi raccomando lasciate un bel like, mi raccomando. Allora ragazzi, questa mattina un video in cui ho analizzato a 360 gradi la situazione legata a Pioli, passato, presente e futuro, responsabilità, accuse, sbagli, dossier, vi invito a vederlo, ci tengo, possiate farlo tutti se non avete ancora fatto, alla fine di questo video vi rimando a quello. Andiamo su altri aspetti, ma non solo, ovviamente si tocca anche la situazione Pioli con un duro attacco che ha ricevuto, condivisibile sì oppure no, lo diremo e lo commenteremo insieme. Partirei però da un'unica cosa bella, una unica immagine bella che riguarda l'altra sera, il Milan è molto attento ovviamente anche alle situazioni un po' più sfortunate, al sociale, e quando sono entrati al Parco dei Principi c'è stato un saluto particolare, molto affettuoso per alcuni ragazzi disabili presenti, ma anche per un ragazzo, Riccardo, inquadrato con uno schermo grande da letto di un ospedale che ha ricevuto i saluti e l'incoraggiamento di Pioli e di tutta la squadra. Vi faccio vedere questo aspetto, poi veniamo alle ultimissime. Mi è piaciuto molto, mi è toccato molto. Vedete insomma Leao e Riccardo sul letto di un ospedale con la maglia del Milan. Mirante, insomma tutti che mandano un saluto. Le lo mandiamo anche noi, non sappiamo se è un iscritto di Milanello. Ecco, mi ha colpito e ripeto, è l'immagine bella dell'altra sera che è stata molto negativa. Mandiamo un abbraccio anche noi a Riccardo. Riccardo, se ci segui su Milanello, ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Facci sapere se per caso stai seguendo questo video. Invito anche la community a mandare un abbraccio al nostro fratello rosso-nero, Ricchi. Allora ragazzi, cosa succede? Innanzitutto vi segnalo una critica molto dura che ha ricevuto Pioli da un suo collega, che è Fabio Capello. Capello, insomma, è uno che dice le cose che pensa, è uno dei miei attori preferiti di sempre. Nel dettaglio dice, Milan deve stare attento, non può essere presuntuoso e giocare sempre uomo contro uomo. Non può rimanere due contro due in occasione del primo gol. Contro l'Inter hai preso cinque gol. Col PSG ne prendi tre grazie a Mignan, altrimenti tirano di più. Perdi contro la Juve. Mi è sembrato un po' presuntuoso l'atteggiamento del Milan. Io da allenatore faccio una domanda. Stasera, cioè l'altra sera, si è visto il Milan? Io non credo. Con Napoli sarà una partita molto importante per ripostare il valore della squadra. Ha giocato tre partite con grandi squadre e le ha perse tutte e tre. Adesso va a giocare con una squadra che è tornata pericolosa come il Napoli e fai l'esame. Prosegue e dice, nella prima mezz'ora il Milan se l'è giocata la pari, prendendosi il rischio di giocarsela uno contro uno, ma non ha pagato. È molto difficile portare a casa così il risultato. Milan assente sul secondo gol del PSG, ma anche assente dell'area di rigore. Il risultato finale è poco confortante, zero gol, c'è qualche problema in attacco. Quindi Fabio Capello dice quello che credo in tantissimi pensiamo e dà sostanzialmente un po' del presuntuoso a Pioli e alla sua idea tattica. Ribadisco, non ho visto mai giocare il Milan così neanche quando aveva dei fenomeni come Alessandro Onesto o Paolo Maldini. Capitava sì la situazione di emergenza in cui ti trovavi nell'uno contro uno, ma non era da contratto, non era da copione. Qui invece diventa una regolarità che poi paghi. A volte ti va bene, a volte prendi il giallo, a volte prendi il rosso, a volte prendi il gol. E speriamo tanto che nell'anamento di oggi, nella rifinitura poi di domani, Pioli si ravvede un po' e torni sui suoi passi. A questo proposito, emergono ulteriori indiscrezioni giornalistiche sulle parole di Calabria. Ad esempio oggi, su fanpage, che so che non gode dell'apprezzamento di tanti di voi, c'è un pezzo, con chi ce l'ha a Calabria, dopo lo sfogo in PSG Milan, quattro giocatori rossoneri come principali indiziati. Davide Calabria si è sfogato davanti alle telecamere dopo PSG Milan, il capitano rosso-nero ha fatto capire di non aver aggradito l'atteggiamento e l'approccio di alcuni suoi compagni di squadra. La famosa frase incriminata è quella, chi non se la sente può andare a casa. Con Pioli che dice ha sbagliato a dire così, a parlare così. Fanpage fa quattro nomi. Il nome di Teo Hernandez, che obiettivamente sta giocando malissimo. Il nome di Leao, che obiettivamente ha sbagliato tante scelte. Il nome di Kalulu, perché ha sbagliato ad essere troppo offensivo, questa è la ricostruzione di fanpage. E poi Musa, perché si sistema i calzettoni. Ora, massimo rispetto per i colleghi, non so chi l'ha scritto, non lo conosco. In ogni caso, ecco, mi sembra sinceramente un pezzo cucito, cucito proprio ad arte per chi sono questi quattro giocatori. In realtà, ieri ho avuto poi, diciamo così, dei contatti in zona Minan, in zona Spogliatoio. Cosa c'era dietro davvero le parole di Calabria? Dietro le parole di Calabria non c'era un riferimento alla gara del giorno prima. Non c'era, come è stato scritto qui e anche da altri, un'accusa ai compagni. Lui non ha detto qualcuno è sceso in campo e ha avuto paura meglio che stava a casa. Lui, a domanda sul futuro, a domanda sul passaggio del turno, ha detto chi non ci credesti a casa, ma che è una frase fatta, che si sente miliardi di volte nel calcio. Ma il suo era un discorso motivazionale sul futuro, non critico sul recente passato, cioè quella partita. Almeno nei confronti dei compagni. Qui non è vero che ha puntato il dito sui compagni, lo escludo, lo spogliatoio da quello che mi risulta invece è molto compatto all'interno. È molto compatto anche nel non condividere questa nuova espressione tattica di Pioli e quello che rimane davvero dell'uscita di Calabria è un'obiezione tattica che ha mosso nei confronti dei Pioli. Quindi non nei confronti dei compagni, questo ve lo posso dare per certo, ma nei confronti di Pioli rimane l'obiezione tattica quando dice dobbiamo cambiare tutto, ci diventiamo troppo alti, dobbiamo scettare uno contro uno contro questi giocatori, eccetera eccetera. Questo è condiviso dallo spogliatoio ed è un messaggio che lui comunque ha discusso anche dopo la partita con toni assolutamente civili, con il mister. Quello che in questo momento la squadra direttamente o indirettamente sta chiedendo a Pioli è di tornare a essere più equilibrata, più abbottonata, meno all'arrembaggio dopo 20 minuti o dopo 40 come nel derby. Perché se pensate gli errori sono sempre gli stessi. Nel derby su Turam, ciao su Turam a campo aperto, con la Juventus, Ken, il duello a campo aperto a volte è andato bene ma poi non è andato bene perché è stato provocato il rosso ciao con Ken e poi l'altro giorno va a Pei, eccetera eccetera. Nelle prossime ore capiremo se questa richiesta diretta ma anche un po' diretta del gruppo verrà accolta oppure no. Credo che l'universo intero sia d'accordo su questo punto, evidenziato anche da Fabio Capello, evidenziato da Calabria, evidenziato dal mondo intero. Credo che ovviamente ogni discorso sia soggettivo ma in questo caso mi sembra talmente limpido, trasparente, che mi stupirei questa volta dopo un errore, due errori, terzo errore che Pioli non modifichi qualcosa e non accetti in qualche modo l'obiezione critica assolutamente condivisibile per quanto mi riguarda del gruppo e dell'opinione pubblica. Spero tanto che non sia cocciuto e presuntuoso da tenere il punto perché tutti gli dicono di cambiare e lui allora non cambia, cosa che però cocciutaggine e presunzione ha dimostrato purtroppo nell'ultimo periodo. A questo proposito poi sul mio canale personale ho pubblicato un thread, ho citato un thread che ho beccato su Twitter, che vi vieto a vedere e che ho condiviso e condividerò comunque anche sulla community. Ci tengo a possiate vederlo perché è molto molto significativo oltre che ben scritto. Detto questo, ragazzi, il momento è particolare per usare un effemismo ho letto i commenti nel video di questa mattina tantissimi tifosi contro Pioli ed è non è ovviamente un 100% è una percentuale però molto alta diciamo che sarebbe forse il caso di fare un sondaggio lo confermersi oppure no ma non voglio alimentare ecco, quindi non lo faccio so già che secondo me è un 80% un 80% cambio, un 20% no ma non lo mettiamo nero su bianco e devo dire che ovviamente in questo momento si guarda anche alle lacune a livello societario perché oggi manca una figura di campo e si commenta anche il mercato ha fatto arrabbiare a molti l'articolo della gazzetta di questa mattina all'home page o meglio il taglio in alto in cui c'era scritto Minan più spendi e meno segni e hai bisogno di Ivra sinceramente a me non è che fa né caldo né freddo è una forzatura per dire che comunque là davanti le cose non stanno andando bene però non stanno andando bene sul mercato perché sono giocatori infortunati Ucafor ha giocato poco ma due golli ha fatti dall'altra parte Ciuquezze che erano i due citati adesso infortunato lui sì non ha fatto benissimo però non si può ignorare che Pulisic abbia portato quattro gol quattro gol Pulisic due Ucafor sono già sei reti dai nuovi e ovvio che Jovic sul discorso non avessimo tutti d'accordo siamo andati troppo lunghi a oggi è una grandissima delusione il Minan però si sta attivando anche per capire se c'è la possibilità sul mercato di gennaio di intervenire sull'attaccante c'è qualche rumor scurioso che andremo a approfondire e a raccontarvi nel prossimo video e fratelli potete che ne pensate le parole di Fabio Capello uno dei miei tecnici preferiti di sempre della storia del Milan delle parole di Calabria delle obiezioni tattiche vengono mosse vi aspettate che cambierà o sarà ancora cocciuto e andrà avanti in questa direzione dopo che tra indizi fanno una prova e che ti dicono basta cambia sull'articolo di fanpage ragazzi ho voluto precisarlo mi fa sorridere mi sembra davvero cucito per buttare lì un pezzo Calabria non ce l'ha assolutamente con i suoi compagni anzi 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 commentate numerosi ora vi rimando al video di questa mattina ci tengo lo vediate ma guardate poi il video sul thread che ho fatto sul mio canale personale ne vale la pena un abbraccio ci vediamo più tardi forza Milano un abbraccio a tutti e viva il Milan se amate il Milan lasciate un bel like chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano un abbraccio